La squadra mobile dell'Aquila, sezione contrasto alla criminalità straniere e prostituzione, ha arrestato un uomo e una donna, l'uno di nazionalità albanese di 22 anni e l'altra dominicana di 28 anni, perché dediti allo sfruttamento della prostituzione, in esecuzione di due ordinanze di custodia catelare messe dal giudice per le indagini preliminari, la dottoressa Buccella, sul richiesta del sostituto procuratore, la dottoressa Ciccarelli. Nell'occasione è stato anche sequestrato in via preventiva, su disposizione della stessa autorità giudiziaria, l'appartamento utilizzato per consumare rapporti sessuali che avvenivano a pagamento. Gli investigatori della mobile hanno perquisito anche l'abitazione, sequestrando all'interno 190 profilattici e 4 telefoni cellulari abbinati a numeri pubblicati su siti internet di incontri. Le attività investigative sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni anonime ricevute dalla questura dell'Aquila, relativamente ad un anomalo andirivieni di persone, per lo più uomini, a tutte le ore del giorno e della notte, da un appartamento situato nei pressi della villa comunale del capoluogo. Nel corso delle indagini avviate dalla mobile è emerso che i due cittadini stranieri avessero messo in piedi una vera e propria agenzia della prostituzione all'Aquila, in grado di fornire alle donne, ma in alcune occasioni anche a transessuali, l'appartamento per prostituirsi, previo pagamento di 40 euro al giorno, nonché l'utenza e l'inserzione, pubblicata su siti internet di incontri, per attirare così i clienti. Nel corso delle attività investigative è stato anche accertato che tra i servizi offerti da due cittadini straniere alle prostitute vi fosse anche la protezione da eventuali clienti che non le volessero pagare. Circostanza effettivamente avvenuta perché nel mese di settembre 2016 un cittadino extracomunitario si è visto aggredito fisicamente dall'albanese arrestato dalla squadra mobile. In seguito a una discussione avvenuta con una prostituta colombiana al termine della prestazione sessuale. Nella stessa occasione il 22enne dell'Est Europa, per porre fine all'insistenza del cliente, sferrò un pugno al volto dell'altro uomo. Per quanto riguarda la donna le indagini hanno messo in evidenza come il suo compito fosse quello di organizzare, monitorare e controllare le prostitute ospitate nell'abitazione messa a disposizione. Doveva incentivare il mercato sessuale reclamizzando anche le prestazioni delle donne con i clienti ed avvisando le ragazze qualora si registrasse la presenza delle forze dell'ordine nei pressi del luogo utilizzato per offrire queste prestazioni sessuali a pagamento.